Nuovo capitolo della vicenda A18, l'autostrada della vergogna, gruppo Facebook aperto solo pochi mesi fa da Stefano Costantino e che vanta già oltre 10.000 membri. Sulla scorta delle proteste pubblicate quotidianamente sul social network, la Conf Consumatori Sicilia stamani ha inviato al Consorzio per le Autostrade Siciliane una formale diffida in cui si chiede l'esecuzione immediata di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell'intero tratto autostradale dell'A18 costellato di buche caratterizzato da asfalto dissestato, carenza di segnalazione verticale, carenza di colonnine di emergenza funzionanti e scarsa manutenzione del verde. Chiesta contestualmente in attesa che gli interventi vengano portati a compimento la sospensione immediata del pagamento del pedaggio sul medesimo tratto autostradale. La diffida è stata inviata per conoscenza anche al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti e Mobilità della Regione Siciliana e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nonostante gli annunciati interventi per circa 8 milioni di euro, in concomitanza con il G7 nessuna tempistica è ancora stata indicata. Gli utenti, dichiara Carmelo Calì, presidente di Conf, consumatori siciliano hanno diritto ad avere erogati servizi secondo standard di qualità ed efficienza che allo Stato non sono garantiti nonostante le reiterate promesse di interventi. Ci auguriamo, conclude, che presto si risolva il problema ma nel frattempo non intendiamo attendere oltre e per tali motivi abbiamo intrapreso quest'ulteriore iniziativa. Se non giungeranno risposte dal CAS, l'Associazione annuncia un'azione giudiziaria.